Vicky Vicky ma non vi ho mai visto così preoccupata ma che è successo? è successo qualcosa? Vicky è successo qualcosa? sono molto preoccupata per il Brexit per il Brexit? ma perché vi intendete di politica, di economia? certo non ero affatto d'accordo con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ma era dura? e perché? perché si apre un periodo di grande, grande, grande incertezza economica ma Vicky ma voi non siete, non fate parte dell'aristocrazia non siete, è ricchissima che vi importa? invece mi importa, appunto sono veramente preoccupata credo che credo che dovrò spostare i miei interessi all'estio grazie a tutti grazie a tutti